Ciao a tutti, oggi vi parlo della Salomon Ultra Glide, una scarpa progettata per permettere a tutti i tipi di runner, dei trail runner, di affrontare lunghe ed ultra distanze, massima comodità e con tanta protezione, è una scarpa che per quanto appartenga alla categoria massima ammortizzazione è molto leggera, stiamo parlando di 265 grammi, un valore veramente basso, nemmeno scarpe da running stradali di categoria massima ammortizzazione hanno questa leggerezza, eppure è una scarpa che non risparmia sulla qualità e sulle tecnologie perché è dotata di tutte le tecnologie Salomon per quanto riguarda soprattutto la calzata, il modo in cui veste queste alette che sono unite al sistema di allacciatura e che vanno ad aumentare la capacità della scarpa di fermarsi sul piede, di tenere ben saldo il rapporto piede-scarpa con una tomaia che ha un tessuto resistente ed è dotata come vedete di ampie protezioni efficaci sia per quanto riguarda la protezione del piede che del tessuto stesso contro l'usura dovuta alle maggiori sollecitazioni dovuto al tipo di corsa trail, quindi una scarpa che c'è, non ha un tessuto leggero e arioso come ad esempio la Salomon Sense Ride 4 che da questo punto di vista veste quasi in maniera nuda sul piede, qui invece abbiamo una scarpa che ha un po' di più spazio sulla zona dal piede ma è dotata anche di abbondanti imbottiture come vedete in tutta la zona del contraforte talonare che è ben strutturato ma flessibile quindi grazie anche a questo sistema di allacciatura va a vinghiare veramente molto il piede in maniera comoda, non in maniera pantofolosa però si fa sentire senza essere scomoda, anche la linguetta parallacci, guardate qua che roba, cioè veramente protegge il collo del piede da questo sistema di allacciatura e c'è un ulteriore rivestimento qui plastico che serve anche a proteggere il tessuto quindi a farla durare ancora di più, insomma questa scarpa non ha proprio risparmiato sui tessuti e sulla qualità e sulla resistenza, è una scarpa che veste il piede in maniera presente comoda ma non piacevole, in quel senso piacevole, si sente, ti fa sentire la sua presenza e puoi sentire che ti dà anche sicurezza, insomma una scarpa che da questo punto di vista è molto efficace nel rapporto di avvolgere il piede e di garantire quindi sempre sicurezza e fiducia in qualsiasi tipo di appoggio e poi abbiamo questa importante inversuola, lo stacco da terra del piede è di 34-35 mm sotto al tallone e abbiamo un differenziale stacco punta di 6 mm quindi misure importanti, è fatto come un materiale a doppia densità ed è veramente efficace nell'assorbire l'impatto a terra anche grazie a questo sbalzo posteriore che anticipa il momento dell'attacco e lo facilita, vedete è molto morbida ma non è accelevole, è morbida quindi anticipa l'attacco, il momento dell'attacco del piede a terra, abbiamo una grande capacità di assorbire l'impatto e anche una grande capacità di facilitare l'esecuzione del passo grazie alla tecnologia rover di cui è dotata e da questo punto di vista una buona dinamicità, aiuta veramente il passo, l'esecuzione del passo a alleggerire e a defaticare quindi anche la meccanica del piede proprio per favorire l'uso sulle ultra distanze, una scarpa che mancava nel catalogo salon, che aveva scarpe anche per lunghe lunghissime distanze ma erano più pensate per la performance pura, questa scarpa invece si può accompagnare molto bene anche un passo sciolto e veloce ma accompagna molto bene anche il passo così più calmo e camminato anche quando si va a portare importanti zaini che aumentano il peso permettendo comunque sempre grande comfort e grande protezione perché abbiamo anche, nonostante appunto lo spessore della gomma, abbiamo anche un rock plate ed una suola come vedete conta che per me ha la migliore della produzione salomo con un sistema Wofford che si adatta un po' a tutti i tipi di fondo, non è la scarpa per fondo invernale pure però diciamo che ha i ritmi per cui è pensata ci si può veramente andare ovunque e insomma una scarpa veramente che riesce proprio per tutte le sue qualità per tutte le sue tecnologie e per la sua leggerezza ad essere una delle veramente una delle migliori della categoria massima ammortizzazione e protezione per trail lunghe distanze e ultra trail